La presentazione del libro Una nuova idea per l'Italia, ultimo lavoro del senatore Domenico Nania, è stata occasione per parlare dell'attuale momento politico regionale e nazionale. Diversi gli esponenti politici intervenuti, l'eurodeputato Salvatore Iacolino, i deputati nazionali Giuseppe Marinello e Vincenzo Fontana e il coordinatore provinciale del PDL Nino Bosco. Naturalmente c'era l'autore, il senatore Nania, che ricopre diverse cariche politiche, vicepresidente del Senato, coordinatore nazionale antilocale del PDL e co-coordinatore regionale del PDL in Sicilia. Un uomo dal grande senso delle istituzioni, consapevole delle proprie radici e della propria identità, ma che sa guardare lontano verso nuovi cambiamenti a cominciare da quello politico. Sono state le parole di Anna Sciancula nel presentare l'intervento del senatore Nania. Oltre ai grandi temi politici nazionali, l'esponente del PDL si è pure soffermato sul momento politico che sta vivendo la Sicilia e la provincia di Agrigento. Anche in questo territorio si sta vivendo un periodo politico di transizione, ha spiegato Nania. Bisogna fare in fretta e dare risposta alla gente. Da parte mia c'è e ci sarà sempre l'invita ad abbassare i toni. Ricordo che il PDL ha concluso come obiettivo il rinnovamento della società italiana.